La lotta alla criminalità nella città e nella provincia di Napoli non conosce tregua. Prendendo atto della brillante operazione della Polizia di Stato di Torre del Greco, che ha smantelato un gruppo criminale dedito all'usura nella città corallina, si rafforza il nostro invito alle vittime di usura e di estorsione a denunciare. È sempre più forte l'invito ad avere fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, che possono liberare tutti coloro che attualmente sono ancora oppressi sotto il peso della camorra e degli usurai. Sono le parole del presidente del circolo della legalità e di SOS Impresa Luigi Cuomo, dopo agli undici arresti di ieri a Torre del Greco. L'operazione è stata possibile, secondo quello che riporta la stampa, soprattutto grazie alla denuncia di una delle vittime, titolare di una panetteria, spiega Cuomo. Oggi i suoi aguzzini sono in carcere e anche a Torre del Greco si respira un'area diversa. Il fenomeno dell'usura è radicato nel territorio vesuviano e stabiese. SOS Impresa è da sempre in prima linea per contrastare questa attività criminale. La denuncia è l'unica arma per liberarsi dalle pressioni della criminalità. In tutti i nostri territori ci sono centinaia di imprenditori vittime di estorsori e usurai, ma oggi è il momento migliore per dire basta. Nessuno resterà solo. SOS Impresa è da sempre al fianco di chi decide di rialzare la testa e affidarsi completamente alla giustizia e alle forze dell'ordine, conclude Luigi Cuomo.